Ah no! Vuoi fare due chiazze? Magari sfogarti un po'? Ho scelta? Certo che no! Traditore! Oh, ora si è arrabbiato, vero? Tu mi hai... mi hai colpito! Rallenta! Era da tanto tempo che non venivo... Corpito! Sai, il dolore non è male come ricordavo! Rallenta! 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 Credi di poter... abbattere Asgard? Rallenta! 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 Oh, che matta! Matta! Aspetta. Cosa ti sta frullando in quella zucca vuota? Oh, no, 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 no. Tu... vuoi risparmiarmi... per pietà! Arrenditi e forse vivrai. È per via di quei lamerattolo. Oh, adesso sì che gli caverò le padella! È il mio ultimo avvertimento. Temo che un avvertimento non basterà. Credi di potertene andare via così? No. Non è così che funziona. Tu non puoi decidere il mio destino! Tu sei morto, compare. Fino al collo! Tu lo sai chi sono io? Sono il guardiano degli Aes... L'araldo del Ragnarok! Proverò quel tuo schifoso metizio e lo massacrerò fino a sfigurarlo! Solo uno di noi due rimarrà in piedi. Ed è ovvio che non sarai tu! Smettila! Non osare risparmiarti! Cominci a darmi sui netti! Traletta! Bocca! Come! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!